Ciao a tutti, io sono Svitlana, presente anche Victoria e questo è il nostro canale di Youtube. Oggi non vi presentiamo nessun video tutorial. Il video di oggi è di dare tanti tanti auguri a tutti voi. Per la prima cosa vi volevamo ringraziare di tutto questo affetto che ci state dimostrando perché ogni video c'è sempre un grande lavoro dietro e quindi con i vostri commenti, con vostra attenzione ci state ripagando tantissimo il nostro lavoro. E vi voglio dire 12.000 grazie, 12.000 come 12.000 iscritte. Nostra comunità sta crescendo e questo ci fa piacere. Cosa vi voglio augurare? Vi voglio augurare solo tanta tanta serenità. Quando avremo serenità possiamo risolvere tutti i nostri problemi. Vi auguro anche un po' di trovare un po' di tempo anche per le vostre hobby preferite. Cosa vi voglio dire? Mangiatevi panettone, dedicatevi alle tavolate, passatevi con persone a voi cari. Alla dieta pensiamo dopo la Befana. Un'altra cosa che voglio aggiungere, che mi è stato tanto tanto piacere, di rivedervi anche questo giorno di festa e noi ci vediamo prestissimo con i nostri nuovi progetti. Buon Natale!